Vittoria doveva essere vittoria è stata per la BBC Gruppo Bernalda che domenica al Palacampagna nella settima giornata di ritorno del campionato di basket di Serie B batte la Stella Azzurra Roma per 100 a 91 e si porta più 4 in classifica allontanandosi dal Fondi sempre fermo a quota 2. Una partita entusiasmante quella giocata al Palacampagna con il Bernalda sotto per due quarti in una partita tirata fino all'ultimo che i ragazzi di coach cotrufo hanno saputo gestire al meglio anche quando il risultato non era al ruolo favorevole con un meno 9 nel terzo quarto che non faceva presagire nulla di buono ma russo e carrichiello nel momento topico della gara riescono a piazzare ben 10 punti a zero e superare di un punto gli avversari il pubblico finalmente si scalda e la gara diventa vibrante punto a punto fino all'ultimo minuto quando Roma nei 60 secondi finali paga la gioventù sente il calore del pubblico e si arrende convincente la prova dei rosso blu tra i quali si è distinto anche il bernaldese di monte autore di un'ottima gara